Sì, ma non... Ma cosa fai? Beh, spero di avere la possibilità. Adesso vado a vedere, perché un video fa, ho visto titoli cattivissimi in apertura di Libero, verità e formato. Ciao! Buongiorno! E' andato via il pazzo, diceva la signora che lavora per il Comune. Allora, cara signora, capisco che riprendere molto sia un problema. Capisco. Capisco che fare poco, come fanno tantissimi dipendenti pubblici, sia un problema. Allora, pagare con i nostri soldi persone che spostano sedie, che spostano microfoni, che fanno cose totalmente inutili, credo sia il massimo del minimo. Poi si può disquisire su tutto, anche su troppo. Però, quindi in un mondo normale dovrebbero licenziare metà di voi. che fanno un'altra parte.